Chloe ce l'abbiamo fatta, hai visto? Ma vedi stavo dormendo, perché hai chiamato? Stavo facendo la nennetta. Perché avevi l'appuntamento e mamma, cioè non c'eravamo, ha fatto un favore. Ma il favore l'hai fatto a mamma, mica a me, e a me che, amore a Dio. Vabbè, per cortesia, so che a mamma fa piacere se ti lavo, ti sistemo. Ma sì, il favore l'hai fatto a lei, a mamma non mi fa il suo favore, posso andare, dai posso andare, posso andare, pure lui vuole andare via. Lui ha già fatto, poverino, ha già fatto, veramente è bello. Ma non è bello, soli... Stai zitto un attimo, grazie. Solo i Chihuahua sono belli, non c'è nessun altro cancio da terra, più bello di noi. Ma senti come fai, è bello, è stupido, è stupido, vero? Vabbè, comunque io ti sistemo, ti lavo, ti sistemo, unghie, piedini, tutto quanto, dovresti essere felice? Ma va... No. Buona domenica, allora, sì, ciao, buona domenica.